Ciao, sono Giancarlo Fisichella, benvenuto nella Ferrari Virtual Academy. Se ti impegnerai a fondo e seguirai consigli che io e gli altri esperti della scuderia Ferrari ti forniremo, potrai imparare a pilotare davvero asso una Ferrari di Formula 1. Abbiamo preparato per te un simulatore super fedele che ti proietterà la guida della più recente Ferrari di Formula 1, la F10. Seguendo i miei consigli potrai migliorare e sfidare i tempi più veloci sui tracciati di eccezionale livello tecnico. Per primo avrai a che fare con la pista di Fiorano, dove tutte le macchine di Maranello vengono testate prima di andare in pista. Una pista molto insidiosa, molto tecnica, ci sono due tornantini da affrontare in prima marcia, soprattutto la prima staccata che si affronta intorno ai 290 km orari. Per poi andare è una S molto veloce e molto difficile, è una velocità che passa oltre i 240 km orari. La seconda prova sarà sullo strepitoso circuito del Mugello, fatto di sali e scendi, tantissime curve che si affrontano in quarta e quinta marcia, a partire dalla Savelli, dalla Biondetti, a passare alle due arrabbiate che si affrontano a oltre i 260 km orari. Un circuito fantastico, qualsiasi pilota vorrebbe guidare in questo circuito che ti dà grandissime soddisfazioni. Una pista che mette a dura prova le gomme, che mette a dura prova i motori, che mette a dura prova anche i piloti. Quindi ti porteremo nel tempo della velocità al Norbury, dove spingeremo la F10 a oltre 310 km orari. Un circuito molto difficile da affrontare, molto tecnico, con chicane, tornantini, curvoni veloci e soprattutto una S molto molto insidiosa, dove devi affrontarla in pieno in quinta marcia. Non sarà facile, non è mai stato facile, ma se ti impegni a fondo potrai essere tu il prossimo campione di Formula 1.